Allora, prendiamo tutti i bambini che hanno partecipato al militario, a loro va un grosso applauso per l'impegno che ci hanno messo. E cominciamo da Locate Varesino, il referente Roberto premia tutti i bambini di Locate Varesino. Un applauso a loro. Previamo anche le medaglie di Venegoro, di Nonate Ceppino. Bambini, mettetevi tutti in fila. Guardate! 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 Allora, chiamatevi tutti! Guardate! 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 Capitano, appoggiatela lì, è tua! Diego, scendi! Bravo Gabri! Grazie. 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 Vabbè, vieni, scordiamo il cappello. Facciamo... Facciamo tutti. Allora, la portiamo in Italia. Prendiamo le ragazze. Grazie. 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 Va l'incorternata. Va l'incorternata, brava. Grazie. Merida. Tiro! Un bravo, un percorso. Venite. Emanuele. Posso raccontare il punteo? Qualcora una persona tra i forti fronte? Brava. Un tiro. Uoi? Un tiro. Grazie. Benvenuti. Abbiamo tornati. Tira l'appone, tira l'appone, tira l'appone. Voi ragazzi, voi ragazzi. Voi ragazzi, vai, vai, vai. Vado, vado, vado. Vado, vado. Il fatto è che la fuccia, ragazza. No, no. La bambina faccia la fanta. Vado, 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 vado. Vado, vado, vado. Vado, vado, vado. Oh, la bambina. Ciao. Grazie per il primo piano. Ma come si chiama il sito? No, ancora no. Te vado a vedere, eh? Troppo vicino? No, ragazzi.